Gigi a tutti ragazzi, sono Alien e questa è Rotazione Settimanale, rubrica che ogni sabato mattina vi mostra tutti i nuovi oggetti in vendita dai vari venditori, sia in base operativa che in ciascuna casa sicura della zona nera, rubrica appunto dove cerco di darvi qualche piccolo consiglio per gli acquisti. Alcuni oggetti in vendita rimangono, altri invece cambiano ed è proprio su quelli che cambiano che cerco di mostrarvi eventuali novità. Bene, partiamo con la base operativa con il venditore equipaggiamento speciale. Ha in vendita un T821 Polizia che costa 825 crediti Phoenix e un Mitra di punteggio 204 che ha il 21% di probabilità colpo critico delle armi e che ha letale, che aumenta i danni critici del 27%, capace che migliora l'utilizzo delle armi per 13,5 secondi quando si usa una qualsiasi abilità ed infine crudele che aumenta la possibilità di colpo critico del 13,5% quando però la salute è al massimo. Ora, malgrado i talenti di quest'arma siano piuttosto buoni, il problema principale è che l'archetipo T821 sembra deficitare in confronto ad un Vector o ad un AUG o ad un MP5 Marina. A questo prezzo forse converrebbe investire altrove, magari su pezzi di armatura oppure tentando di crearsi un Vector di punteggio 182 o meglio anche un MP5, tanto i progetti li trovate sempre in vendita qui da questo venditore. Abbiamo poi un M60 E4 militare, sempre di punteggio 204 e al costo di 830 crediti Phoenix, una mitragliatrice che fornisce il ripristino dove uccidere un bersaglio rimuove tutti gli effetti di stato negativi, ma è un talento che necessita di molta elettronica, come vedete, distruttore che infligge un 18% di danni in più alle corazze dei nemici, quindi valida solo contro i nemici controllati dal computer, ed infine forse il migliore dei talenti qui, già sbloccato senza requisiti, ovvero predatore che vi fa rigenerare il 13,5% di vita in 5 secondi quando si uccide un nemico. Ora, le mitragliatrici non sono competitive, ma vi ricordo che post patch 1.2 le cose dovrebbero cambiare, sinceramente meglio questo M60 che il T821, parere personale, è una sorta di scommessa barra investimento. C'è anche questo Scar L Socom che costa relativamente poco e che ha dei talenti interessanti, come per esempio Reattivo, ma comunque non credo valga la pena acquistarlo, io punterei alla creazione di una K74 mercato nero piuttosto. Abbiamo poi uno Zainob dei reparti speciali con un talento, secondo me, potente sulla carta, ma un po' meno in pratica, perché è vero che aumenta la potenzialità del 13,5%, ma solo quando si usa un'abilità speciale, cioè la Super, e quindi quante volte usiamo una Super abilità? Beh, non di certo ogni minuto. Non è comunque malvagio considerato che è rolato con salute e anche uno slot, si potrebbe eventualmente sacrificare quell'attributo principale per cercare altro, come magari più corazza, per esempio. Chiaro che questo nel caso in cui non si abbia nessuno dei pezzi di un set. Questi quanti tattici non li consiglio per il semplice fatto che il talento non è un granché, gli attributi sono un po' troppo mischiati e quei danni delle pistole non sono, mi ispirano, lascia riperdere. Io personalmente preferisco investire nella creazione di pezzi di set, ecco. Bene, spostiamoci in zona nera adesso, cominciando dalla casa sicura nella zona ZN2. Una maschera di punteggio 163, se siete magari di punteggio tipo 150, allora la si potrebbe anche acquistare magari ricalibrando quell'elettronica in salute, visto che ha anche uno slot. Il giubbotto da operatore non è malvagio, ma ha deficita in salute, quindi andrebbe forse ricalibrato e non ha uno slot, quindi attenzione. Piuttosto segnalo i progetti che sono in vendita di punteggio 204, con una particolare enfasi sul progetto dei guanti vigore, visto che, personalmente, trovo sempre una certa difficoltà nel trovare guanti decenti. Con questi vi portate a casa. Il progetto, che non è malvagio, però chiaramente tutti i progetti acquistati in zona nera vogliono materiali e equipaggiamento della divisione, al momento non si trovano facilmente, ma dalla 1.2 si troveranno praticamente in ogni cassa che aprirete della divisione, però a patto che siate nella zona 200+. Spostiamoci invece nella zona ZN3, abbiamo un interessante M9 militare per chi cerca magari un'arma di supporto con punteggio 182 per aumentare il punteggio giocatore, magari. Io penso di poterla consigliare più che altro solo per il talento sostentamento che fa guadagnare il 6% di salute ad ogni uccisione. Parlando di cose più serie, il progetto del Valkyria è sempre disponibile. Se vi interessa la recensione di quest'arma, la trovate in descrizione. No, comunque, c'è il progetto del Vector 45 ACP, prima ondata. Ottima arma, ma appunto richiede grado 75 per essere acquistato. Ma è di punteggio 204, quindi wow. E anche un interessante progetto per l'SASG12S Mercato Nero. Il mio fucile a pompa preferito è forse tecnicamente il migliore in assoluto. Considerato che le altre armi verranno potenziate, io ho un pensierino, potrei pure farcelo nell'acquistare il progetto. Ancora, investimento, è tutto a rischio. Per gli altri progetti, beh, sono di punteggio un po' bassino, lascerei perdere onestamente. Zona ZN4 invece, abbiamo due mod prestazioni, una prototipo e una avanzata, ma lasciate stare, saranno potenziate in futuro, ma non adesso. Piuttosto, prendetevi i progetti delle mod vigore o armi da fuoco o elettronica, se non li avete ancora comprati, visto che sono di livello 32. Infine, arriviamo alla zona ZN5, visto che la 6, ricordo, ha sempre in vendita due pezzi del set Nomade, a 191, e due progetti per lo stesso set, ma di livello 214. Abbiamo un mirino VX1 12x, che aumenta i danni per colpi alla testa del 22,5%. È un po' meno bello il fatto che aumenti l'esperienza del 7,5% per i colpi alla testa. È il mio mirino preferito per i cecchini, inteso da usare in prima persona, ma è l'attributo dell'esperienza per colpi alla testa che non mi fa impazzire. Comunque non è male. Abbiamo poi il progetto mirino a punto rosso piccolo, che aumenta i danni dell'arma sicuramente, più un bonus casuale. È un buonissimo progetto questo invece, visto che è di livello 32. Abbiamo poi altri progetti, ma onestamente non sprecherei i materiali della divisione per progetti di grado inferiore al 31-32. Bene amici miei, è tutto per questa settimana. Io vi ricordo che domani sera alle 20 sarò sul mio canale Twitch per giocare insieme a voi un po' a The Division su Xbox One. Come al solito, le modalità le conoscete. Voi partecipate, io vi pesco, si gioca insieme e tanti saluti. Quindi, beh, venitemi a trovare. Ci sono alcune importanti novità per il mio canale Twitch. Alcuni di voi già lo sanno, o meglio, sanno in parte se mi hanno seguito ieri sera nel mio stream di Destiny, ma vi sarà spiegato tutto, tutto molto presto. Io, come al solito, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e vi saluta. Love and peace, agenti!